Ben ritrovati nella liturgia del giorno 14 agosto 2020. Oggi è venerdì della diciannovesima settimana del Tempo Ordinario e celebriamo la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Colbe. Nella prima lettura affrontiamo un testo molto famoso del libro del profeta Ezechiele. Diciamo che il testo è una grande rilettura della storia di Israele. Abbiamo visto che fino al capitolo dodicesimo ci sono le due grandi visioni, Ezechiele 1.3 e Ezechiele 8.11, una sulla vocazione del profeta con la visione del carro di Dio e un'altra invece sui peccati di Gerusalemme e conseguente castigo. Il capitolo dodicesimo che abbiamo letto ieri è il bagaglio dell'esiliato. Che cosa succede dopo questo? Il testo del profeta Ezechiele che, come vi ho detto più volte, è marcato con date, mesi, giorno e anno di ogni profezia, si interrompe per quattro anni. E abbiamo tutta una serie di capitoli che sono di carattere legislativo, sapienziale, ma anche, diciamo così, di profonda riflessione sulla storia di Israele. E il capitolo sedicesimo è certamente l'affresco più ampio e anche forse più profondo, ma ne seguiranno poi altri due, il capitolo ventesimo e il capitolo ventitresimo. E qual è la logica di questo racconto? Beh, il Signore vuole mettere in evidenza quanto Israele sia stato completamente irriconoscente e c'è una storia che lo dimostra. E i suoi abomini, allora, sono ancora più esecrabili, se possibile. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale, non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Tu sei per origine nascita del paese dei Canenei. Tuo padre era un arameo e tua madre un ittita. Quindi tu non avresti avuto, diciamo così, lignaggio regale o in qualche modo motivo per il quale io ti avrei dovuto scegliere, assolutamente. L'unico motivo viene sottolineato con l'occhio pietoso che non si volse verso di te per farti una sola di queste cose, non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita, foste gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti battevi nel sangue e dissi, vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Ma eri nuda e scoperta, il che sta a indicare ovviamente che non avevi nessuna dignità agli occhi praticamente di nessuno e non avevi nessuna possibilità di vanto alcuno. Ecco allora che passai vicino a te, ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore e addirittura Dio la adorna di gioielli, i braccialetti, i polsi, i collane al collo, al naso un anello, orecchini, c'è tutto l'agghindamento, diciamo così, femminile dell'epoca, e divenisti più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta, ti avevo reso uno splendore, parola del Signore. Ma poi, e ma poi, tu però infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori ad ogni passante. Sarà molto dura l'accusa, qui il testo ovviamente è stato ampiamente tagliato, e viene ricordato nella sua parte finale. Mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza, e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi, e ti vergogni nella tua confusione, tu non avrò più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Avete capito? Io ti perdonerò quello che hai fatto, perché sia sempre davanti a te il tuo comportamento, e tu ti renda conto di che profonda differenza ci sia stato nel mio modo di rapportarti a te, e nel tuo modo di rapportarti a me. Il Salmo, che invece di esserci proposto un testo, una preghiera del Salterio, ci viene proposto un testo molto famoso del profeta Isaia. Ed è interessante perché questo testo ci sottolinea come Dio sia la salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, proclamerete fra i propoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. L'esperienza della salvezza scioglie la lingua, dovremmo sempre tenerlo profondamente a mente. Quando si sperimenta la salvezza del Signore, c'è un moto dell'anima irrifrenabile a comunicarla e assolutamente senza nessun tipo di vergogna. e infine conosca tutta la terra. Cantate al Signore perché ha fatto cose eccelse, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Il testo del Vangelo oggi, affrontiamo il capitolo diciannovesimo del Vangelo di Matteo e affrontiamo una grande questione che viene posta a Gesù, la questione sul matrimonio e in particolare se esista ancora, se sia ancora in vigore, la legge di Mosè che per qualunque motivo il marito può rimandare indietro la moglie. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo testo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero «E' lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Egli rispose «Non avete letto che il creatore da principio li fece maschi e femmina?» e disse «Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne?» «Così non sono più due, ma una sola carne!» Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla?» Rispose loro «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli «Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi». Egli rispose loro «Non tutti capiscono questa parola ma solo coloro i quali è stato concesso. infatti vi sono eunuchi che sono nati così del grembo della madre e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire capisco». Notate che si avvicinano a Gesù i farisei per metterlo alla prova. Ormai non c'è più la curiosità di imparare o di ascoltare un maestro. Ormai si va avanti a pretesti. La sfida è completamente pubblica. E lei cita un uomo a ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ecco i motivi. Quali sono i motivi che possono supportare questo? Gesù dice «Non avete letto che il Creatore da principio gli fece maschio e femmine e disse «Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e le due diventeranno una sola carne? Così che non sono più due ma una sola carne. L'uomo dunque non divida quello che Dio ha congiunto. Di fronte a questo non c'è nessun motivo, nessuna interpretazione possibile né della loro legge né della nostra legge. C'è un'opera di Dio che compie una cosa nuova». Il motivo allora gli domandarono «Perché Mosè ha ordinato l'atto di ripudio e di ripudiarla per la durezza del vostro cuore. Non eravate capaci di intendere la parola del Signore. All'inizio però non fu così». È interessante e poi questa traduzione è molto discutibile ve la posso garantire ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra commette adulterio. Il testo greco è brevissimo «E me por meia». In caso e mi pare talmente evidente che non sia in caso di unione illegittima ma semplicemente in caso di adulterio e così l'ha intesa precisamente la Chiesa orientale. Per la durezza del cuore. Non tutti e naturalmente i discepoli dicono se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi. Non tutti capiscono questa parola ma alcuni si sono resitali cioè eunuchi per il regno dei Cieli. Chi può capire capisca. È evidentemente nell'ordine di una comprensione che nasce dall'alto quella di andare oltre e di rinunciare al matrimonio ma è importante che non c'è un confronto tra la vita consacrata e il matrimonio è un accenno ad abbondanza diciamo così del Signore ma la cosa che è centrale in questo testo è l'opera del creatore che compie dell'uomo e della donna una sola cosa. Alla lettera quando dice si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola il verbo in greco è collao e quindi proprio si capisce anche dal suono collao si incollerà a sua moglie e i due diventeranno una cosa sola è molto e pensate che il famoso testo di Efesini quello di 522-32 addirittura ha un rafforzativo di collao a pros collao pros bellissimo è un super attack non saprei come definirlo in un modo differente perché c'è un'opera di Dio e di fronte a questo non c'è nessun motivo questo Gesù dice la vostra tradizione è misurata dalla parola di Dio non il contrario semmai la vostra tradizione può interpretarla per specificarla meglio la parola ma mai per annullarla e questa cosa deve contraddistinguere tutte le generazioni che ascoltano la parola di Dio con vera onestà anche se alle volte come i discepoli si può rimanere anche un po' perplessi dice ma spiegaci meglio questa cosa la capita in un'altra maniera così non ci sembra eccezionale vediamo però che cosa possiamo portare a casa per la nostra vita da queste letture che abbiamo ascoltato adesso prima di tutto la riconoscenza quella che è mancata nell'accusa che il profeta Ezechiele fa nella prima lettura il popolo non ha avuto riconoscenza per tutti i doni a partire da quella dignità dalla vita dalla dignità che ha donato a qualcosa che non aveva speranza di vita ecco essere riconoscenti e si impara a essere riconoscenti prima verso gli uomini riconoscendo che ciò che ci donano non è un dovuto ma è un gratuito il più delle volte e poi piano piano si impara a riconoscere anche che cosa si debba a Dio chi vive naturalmente all'interno della nuvola del suo egoismo non ne abbia paura pensa sempre di bastare a se stesso di non aver bisogno di nessuno e di non dover mai chiedere nulla purtroppo per il 98% delle cose invece dipende moltissimo da Dio ma anche dagli altri l'esperienza della salvezza è il testo di Isaia utilizzato come salvo responsoriale che scioglie la lingua dicevo prima cioè scioglie la nostra vita l'esperienza di salvezza si connota per questi due elementi queste due caratteristiche il venire a una sincerità diversa e il comunicare le cose non perché si aspetti dall'altra parte accoglienza riconoscimento e applauso ma perché semplicemente dall'interno l'esperienza della salvezza prorompe all'esterno e infine la comprensione della vita alla luce della parola è precisamente la scoperta di quella vocazione che unisce l'uomo e la donna ma è una comprensione della nostra vita alla luce della parola quello che una volta si chiamava semplicemente vocazione e è chiaro che ci sono già due elementi più importanti la nostra vita di fronte alla luce della parola e non chiedere come i farisei cose al Signore per provocarlo ma semmai anche cose come i discepoli che lasciano interdetti ma per esserne illuminati riconoscendo nella nostra vita e in questo grandissimo sacramento un dono particolare una presenza particolare dell'opera del Signore dentro le vite delle persone che nel suo nome si uniscono abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata nella memoria di San Massimiliano Maria Colpe di San Massimiliano di San Massimiliano